Mister, contro la Sampo una bella vittoria, una grande prestazione che hanno migliorato di tanto la classifica. Questo vi mette, se vogliamo, ancora di più nelle condizioni ideali, anche in termini di entusiasmo per affrontare una grande squadra come la Roma? È stato indubbiamente un colpo di pedale importante, ma sappiamo che la salita è molto lunga, che gli inseguitori sono vicini, come è vicino il traguardo e quindi ci concentriamo sull'oggi. La Roma ha giocato giovedì sera in Conference League, Mourinho ha sì fatto delle rotazioni, ha due squalificati, ma al netto di tutto ciò le chiedo se questo è un vantaggio piccolo può essere? Se gioca a Pellegrini o gioca a Veretout, le sostituzioni e le rotazioni sono relative. Si parla di un top club con campioni fatti o quasi fatti, nel senso che il livello è altissimo, quindi non credo che il focus vada posto sulle rotazioni. Più che altro va messo su una squadra che si è saputa sporcare, che si è adattata e ha saputo soffrire in base all'avversario. E questo penso che sia una chiave della partita, perché se te hai giocatori di livello che si sanno adattare, cominci a avere davanti una grande squadra che ci troverà pronti. La luce di questo, anche che tipo di partita ti aspetti, anche proprio questo aspetto che stoliniamo, anche della loro solidità, sono passati a tre nelle ultime settimane, e questo, almeno nei numeri, testimoniano che li ha aiutati a compattarsi e anche a dare quella maggiore libertà in avanti agli uomini forse più pericolosi come Ebram e Zaniolo. Andando in ordine, se non salto nemmeno una domanda, è che tipo di squadra mi aspetto? Mi aspetto una grande squadra. Ci aspettiamo, anzi scusami, di affrontare una grande squadra che ha le idee chiare, che ha un potenziale e che ha dei principi di gioco che vanno al di là del modulo. Una squadra ha un'identità quando i suoi principi sono gli stessi, indipendentemente dal modulo. Sono tre partite che non concedono gol, sono migliorati tantissimo nella fase di possesso, ovviamente a eccezione dell'ultima partita che non credo faccia testo, e si sono adattati e si stanno adattando all'inerzia delle partite, che è una chiave di lettura che le grandi squadre o le squadre con obiettivi ben chiari e solidi hanno. Mancherà per squalifica Wallace, che è stato un uomo cardine importantissimo di questa Udinese. Cosa comporta la sua assenza e se hai già pensato alle possibili soluzioni con gli altri centrocampisti per sopperire? Wolli è un giocatore importantissimo per noi. Verrà sostituito da un altro giocatore importantissimo. Tu hai menzionato, Iaialo e Tolgai. In base alla partita decideremo quale dei due ha la caratteristica adatte per combattere la Roma. Avevi parlato settimana scorsa dell'importanza del capitano di Brandneutink, che in settimana è tornato in gruppo, si è allenato. Ti chiedo come sta e se eventualmente può essere pronto per dare il suo contributo. Sta bene, è un giocatore importante. È stato un rientro gradito e voluto, che ha un'importanza incredibile all'interno dello spogliatoio. L'ultima è sul confronto anche personale con Mourinho. Sei emozionato anche per affrontare per la prima volta in carriera un tecnico tra i più vincenti e anche tra i personaggi più affascinanti del mondo del calcio? Ti dico solo che ho anche una guerra in famiglia, perché mio fratello viene a vedere la partita solo per vedere Mourinho, per vedermi dalla mano a lui. Quindi ci gioca contro anche. Comunque, al di là scherzi a parte, sarà sicuramente un momento importante e gratificante. È un allenatore che non nego ad aver studiato. È un personaggio affascinante che è tra gli allenatori più vincenti al mondo. Quindi insieme a Guardiola, insieme a Ancelotti, a Zidane, è colui che ha vinto di più. E vincere non è mai facile e soprattutto vincere nel tempo. Quindi sarà ancora un motivo in più per i ragazzi, o per noi in generale, di fare una grande partita. Grazie.